buongiorno sono maddalena antoniazzi mi occupo di storia della moda e del costume e oggi ho il compito di portarvi a ritroso nel tempo per riscoprire la parigi al tempo degli impressionisti e di come questi famosi artisti abbiano testimoniato l'evoluzione della moda tra la metà dell'ottocento e gli inizi del novecento prima di iniziare il nostro viaggio voglio ringraziare il comune di Villorba per avermi invitata al progetto dell'età libera come tutti ben sapete l'impressionismo è una delle correnti artistiche più amate e più conosciute in tutto il mondo nacque in Francia e precisamente a Parigi nella seconda metà dell'ottocento precisamente tra il 1860 e il 1870 la prima esposizione avvenne nel 1874 presso lo studio del celebre fotografo Nadar ed è una corrente che durò fino ai primi anni del novecento questi artisti avevano l'intento di illustrare la vita contemporanea e hanno privilegiato la rappresentazione della figura umana nel suo ambiente quotidiano raffigurando l'uomo moderno nelle sue svariate attività non solo in città ma anche in campagna va detto che gli impressionisti pur non curandosi di fornire una rappresentazione adeguata della fisionomia e delle usanze e degli abiti hanno comunque avuto un'idea e hanno rappresentato proprio la moda e le abitudini del loro tempo hanno raggiunto questo risultato perché utilizzavano il ritratto come una sorta di istantanea una sorta di fotografia e sono stati capaci quindi di rinnovare anche la scena di genere e soprattutto hanno avuto quella particolare sensibilità e qui cito le parole di Baudelaire di creare quella metamorfosi giornaliera delle cose esterne quindi gli impressionisti ci testimoniano meglio delle prime immagini fotografiche quelle che furono le reali e veritiere evoluzioni del mondo del vestire sia maschile che femminile tra il 1860 e il 1890 circa. Chi erano questi artisti? Erano giovani pittori i cui nomi oggi sono conosciuti in tutto il mondo e qui ho raggruppato in una sorta di collage i ritratti dei più famosi. Abbiamo, a partire dalla sinistra, il ritratto di Degas, di Monet, di Caillebotte, di Renoir e di Basile. Parigi in quegli anni la Villumière era una sorta di foyer della creazione, era una fucina inesauribile di arte in tutti i campi sostanzialmente, dalla letteratura all'opera alla pittura alla moda e la moda in quegli anni si stava proprio adattando al nuovo concetto di consumismo, diviso tra la nascita della haute couture, cioè dell'alta moda, e dei grandi magazzini, grandi magazzini che proprio in quegli anni videro la loro nascita e che vennero tanto decantati dal celebre scrittore Zola che ne raccontò le vicende nel paradiso delle signore, datato 1882. Tra gli altro gli abiti ci dicono molto sulla condizione moderna di quegli anni e dell'essenza dell'essere umano di quegli anni e rispondono proprio alla duplice componente della modernità concepita secondo il concetto di Baudelaire. Come scriveva Gérard Freudevaux, sembra che la moda permetta ai pittori di rilevare non solo la bellezza della modernità ma anche quell'inquietante dinamismo dei valori e dei significati che dominano l'insieme della vita sociale. In quegli anni Parigi quindi vede un flusso continuo di discussioni legate all'ambito della moda, non solo morali, non solo sociali ma anche estetiche, filosofiche, letterari e si amplifica in una sorta di flusso ininterrotto fino ai primi anni del Novecento. Gli scrittori parlano di moda, per esempio Balzac scrive il trattato della vita elegante del 1830, Baudelaire il trattato del maquillage, Mallarmé, Oscar Wilde, Proust si occupano di moda e scrivono sulla moda, quindi sociologi, antropologi prendono questa arte, questo aspetto per porre dei temi, delle riflessioni proprio sul concetto della vita e vedono la moda come una testimone privilegiata della sottomissione dell'uomo alle norme collettive. Parigi è il centro di questa manifestazione artistica dell'evoluzione della moda che influenzerà non solo tutta l'Europa ma tutto il mondo intero e ci dobbiamo soffermare per un istante alla città di Parigi che proprio nell'ultimo trentennio del secolo questa città aveva visto, città capitale della vita moderna, aveva visto il suo aspetto mutare grazie all'opera di Napoleone III e di Haussmann che tra il 1855 e il 1870 avevano proprio rivoluzionato l'aspetto urbanistico della città creando nuovi boulevard, quegli ampi viali cittadini che attraversavano la città creando spazi verdi, parchi, monumenti pubblici, sale da ballo, ristoranti, caffè e non solo. Infatti anche il sottosuolo della città era già percorso da quella che ancora oggi è una delle reti metropolitane più estese e più efficienti del nostro mondo, quella appunto della metropolitana, della metro parisienne e di notte invece la città veniva rischiarata da un impianto di lampioni a gas che erano all'avanguardia a livello tecnologico in quegli anni e che hanno contribuito tra l'altro a consolidare proprio l'aspetto di Parigi e di creare quell'appellativo così noto ai contemporanei cioè la ville lumière. L'opera che è meglio di qualsiasi altra fornisce un'idea della rue parisienne, della strada parigina, dei boulevard parigini dei nuovi quartieri borghesi è sicuramente questo dipinto che prende il nome di rue de Paris, tom de pluie, di Caillebotte, strada di Parigi durante una giornata di pioggia ed è da considerarsi una sorta di istantanea della vita di quel tempo, un flashback, un trache de vie, un pezzo di vita della Parigi e della società borghese della metà dell'Ottocento colta durante una giornata autunnale piovosa. Qui vediamo gli abiti scuri dei passanti che stanno attraversando la strada e in particolar modo dei due protagonisti di questo dipinto, quelli in primo piano, questo signore che sorregge l'ombrillino azzurro e che protegge la compagna e indossano abiti scuri di buona foggia e di buon taglio, di taglio serotoriale senza dubbio e lui per esempio veste un gilet grigio, una camicia bianca, un immancabile papillone e un cappotto scuro sopra pantaloni grigio chiari e un immancabile cilindro. Lei invece è un abito costituito da due pezzi foderato di pelliccia rigorosamente nero che ricordiamo è il colore alla moda di quegli anni e questi abiti contrastano con la pietra grigia e chiara delle facciate dei nuovi palazzi borghesi. Gli ombrellini aperti, probabilmente acquistati in uno dei tanti grandi magazzini che venivano aperti in quegli anni come poteva essere il magazzino del Louvre, le Beaumarchais, Saint-Martin e ci ricordano l'utilità di questo accessorio sotto il cielo piavoso di Parigi in una giornata autunnale. Qualsiasi donna uscisse in quegli anni di casa doveva indossare rigorosamente, secondo i manuali dell'eleganza, un cappello e qui vediamo infatti la dama che indossa un piccolo cappello nero. Questi cappelli potevano essere a capotta, dette a capotte o a cabriolet, potevano essere realizzati in velluto o in paglia intrecciata di colore naturale o a tinta unita, rigorosamente arricchiti di pizzi, di nastri, di seta o velluto, di fiori in taftà o di fiori veri. Anche i guanti avevano il vantaggio di rendere piccola la mano della fanciulla che le indossava, era uno degli accessori di prima necessità per uscire di casa. Tra gli accessori indispensabili alla fanciulla e alla dama della metà dell'Ottocento, accessori che venivano definiti di contegno, possiamo trovare oltre gli ombrellini parasole, i bastoni da passeggio, i ventagli, tutti quegli oggetti che aiutavano la donna ad avere quindi un atteggiamento grazioso e soprattutto a tenere le mani occupate. L'ombrellino parasole era appunto uno degli accessori prediletti dalle dame dell'Ottocento e serviva per proteggere la pelle del viso dal sole. Ricordiamo che il colorito prediletto dalla bellezza del tempo era il color candido lunare. Questi ombrellini da passeggio erano estremamente eleganti, potevano avere il manico d'avorio scolpito, potevano essere realizzati addirittura in pizzo e andavano a concorrere a quello che era l'elaborazione dell'immagine della donna di Parigi, la famosa Parisienne, che si distingueva non soltanto per il rango sociale ma soprattutto per la ricercatezza delle sue toilette, cioè del suo modo di abbigliarsi. Secondo una guida del 1859 la donna parigina si distingueva per la semplicità e per una sorta di castità. Qui vediamo la Parisienne dipinta da Manet nel 1875 che ritrae l'attrice Hélène André, che tiene con la mano sinistra lo stracico di seta del suo abito e lascia intravedere la punta del suo stivaletto. Dobbiamo ricordare che per realizzare un abito di questo tipo servivano dai 14 ai 15 metri di tessuto, di stoffa di seta e erano poi immancabili gli accessori quelli intimi che servivano per rendere questa silhouette unica, cioè il corsetto e la crinolina. In questo caso vediamo l'accessorio di contegno, oltre che all'ombrellino parasole, anche il cappello molto piccolo sulla testa dell'attrice. Qui vediamo uno degli abiti reali che una donna parigina poteva aver indossato in quegli anni. È un abito nero realizzato in due pezzi di tessuto di seta, bordato di pizzo, di cluny e di passamainerie varie. Tutta la gonna poi sul davanti lo vediamo è plissettata e questo tipo di indumento non è molto lontano da quello indossato dall'attrice rappresentata da Manet, la Parisienne. Ed era un abito che poteva probabilmente trovarsi in vendita anche nei grandi magazzini. Vediamo una serie di immagini tratte dai giornali di moda del tempo in cui vediamo come il colore nero era il colore dominante. Questa è un'altra immagine della Parisienne del tempo, questa figura sobria ma sofisticata allo stesso tempo ed è il ritratto della moglie dell'artista Carolus Durand, la donna con il guanto. Ha immenso questo ritratto, grandezza naturale, è riscosso e tra l'altro un enorme successo in occasione della sua esposizione al salon del 1869. Qui abbiamo questa dama che veste questo abito cangiante di colore nero e si staglia su un fondo spoglio chiaro. L'unico punto di colore oltre al fiore giallo tra i capelli è la macchia bianca dei guanti, quindi il viso e l'acconciatura ci denota non so che di cipetuolo in questa giovane donna. Le mani di questa fanciulla stanno giocando con un guanto, se lo sta togliendo e con grazia mentre l'altro, l'altro guanto color grigio perla è caduto a terra, è posato a terra ed è un'istantanea, una visione per così dire della parigina che sta giocando con i suoi accessori raffinati. Quindi noi ci siamo fatti un'idea di questa donna parigina che è imitata, sognata, agognata dalle donne di tutto il mondo. È un personaggio che appunto fa sognare il mondo intero e il mondo intero raggiunge Parigi proprio per vedere la parigina, per ammirarla e copiare i suoi abiti e la sua eleganza soprattutto. Queste parigine, un po' come lo stile parigino della Parisienne di oggi, insomma, Parigi è sempre il centro della moda e sono donne che avevano un certo savoir-faire, un modo particolare di di vestirsi, è un gusto eccelso per quello che era l'accessorio e la moda. Come dicevamo, il colore nero è il colore per antonomasia più utilizzato in quegli anni, nella seconda metà del diciannovesimo secolo. Si vestiva di nero non solo la giovane vendeuse, non solo la giovane commessa, ma anche la contessa in lutto. Qualsiasi tipologia di abito nell'arco della giornata poteva essere di colore nero. Questo colore naturalmente raggiunse una grande popolarità grazie soprattutto ai progressi della tecnica tintoria. Prima era molto difficile utilizzare il colore nero e far sì che questo mantenesse una propria resistenza nel tessuto. Quindi è una sorta di nero intramontabile. Charles Baudelaire colse proprio un aspetto politico nell'adeguamento del nero e nel fatto che tutti i borghesi si vestissero di nero. Assurvò come fosse diventato l'uniforme di tutti i borghesi democratici, espressione dell'uguaglianza universale. Addirittura l'imperatrice Eugenia indossava abiti neri nell'intimità della sua dimora. Qui abbiamo appunto un'immagine di un abito appartenuta all'imperatrice Eugenia datato 1873. Il nero appare già nel dipinto di Tissot di Mademoiselle LL datato 1864. E qui abbiamo una veste nera cangiante con un bolero russo detto la Garibaldi che proprio andava ad esaltare gli anni dell'unificazione italiana e un omaggio al condottiero italiano. Ed è qui che intervengono proprio gli impressionisti. Non è la finezza dei tratti nel definire questa gonna che ci restituisce proprio le pieghe, le volute scure della stoffa. È una sottigliezza che ancora la nuova fotografia non era riuscita a raggiungere. Questo è un altro dipinto di Tissot incredibilmente eccezionale nel vedere come è riuscito a definire attraverso i suoi tratti i diversi le diverse tipologie di tessuto dal velluto al taftà di seta della gonna. Veniamo un po' a parlare di come le donne e gli uomini venivano informati delle nuove tendenze moda. Innanzitutto i parigini che desideravano seguire la moda potevano consultare le numerose riviste specializzate che venivano divulgate e vendute in quegli anni e commentavano le creazioni delle diverse sartorie non solo delle modiste ma anche delle sarte e dei sarti da uomo più in voga in quegli anni. Tra il 1830 e il 1870 avvierono in Francia più di 90 riviste che si occupavano di moda. La più celebre rivista di moda e anche la più effimera è stata fondata nel 1874 da Malarmé, il famoso artista sul francese, che scriveva sotto uno pseudonimo tutti gli articoli del giornale. si firmava Miss Satenne e offriva questa rivista in omaggio cartamodelli e utilizzava il soggetto della moda proprio a che a lui interessava molto per, come dire, rappresentare la vita moderna più estrema. Qui vediamo appunto Manet che ci illustra una dama intenta a leggere un giornale di moda, Renouard, Renouard e diverse testimonianze. E questa è appunto la Dernier Mode, la rivista di Stefan Malarmé. Qui vediamo il celebre dipinto di Monet, Camille, che ricorda per impostazione a tutti gli effetti le stampe di moda dell'epoca. Questa donna è tenuta da passeggio, è vista di schiena e si sta prestando ad uscire, a lasciare quindi lo spettatore ad uscire di scena. La veste è una veste all'ultima moda e è indossata senza crinolina e ci fu un momento in cui venne abbandonata la crinolina perché è considerata troppo ingombrante e indossa poi un pantò di pelliccia, un pantò nero foderato di pelliccia. Questa silhouette fluida quindi è il ritratto non tanto di Camille ma della veste dell'abito di cui spicca il famoso verde veronese. Accanto abbiamo poi l'immagine dell'abito reale che probabilmente fu indossato da Camille che anche questo era in vendita nei grandi magazzini ed era un abito molto in voga alla metà dell'Ottocento. Oltre alle riviste uomini e donne potevano appunto visitare i grandi magazzini tra cui il magazzino del Louvre, le Beaumarchais, la Ville Saint-Denis, la Saint-Martin, la Maison du Beaumarchais eccetera eccetera in cui acquistare e incontrare dame della buona società. I grandi magazzini erano costituiti da diversi reparti un po' come i grandi magazzini di oggi e non si limitavano infatti a proporre elementi utili alla realizzazione degli abiti delle toilette eleganti ma offrivano anche abiti già confezionati di grande qualità e anche cappelli, guanti e tutti quegli accessori che cercavano poi di rivaleggiare con quelli delle migliori sartorie dei produttori di moda di Parigi del tempo, da Roger a Camille che queste sono le più importanti sartorie del tempo. Tra l'altro queste sartorie erano nate tutte sullo stampo di quella sartoria fondata da l'uomo per antonomasia più famoso del tempo che influenzò la moda della metà dell'Ottocento, cioè Worth che fondò nel 1858 in Rue de la Pe, numero 7, una sartoria di fama internazionale e qui tutte le donne del mondo andavano a vestirsi, addirittura la regina Margherita d'Italia. E quindi tutte le sartorie e le boutique di moda cominciarono a crescere notevolmente fra il 1875 e il 1885. Worth è rivoluzionario perché? Perché? Perché introduce una nuova visione della moda. Eccolo qui, Worth, rappresentato nella veste di un artista. Lui appunto si considerava un artista e diceva che mentre Delacroix utilizzava le tele per creare i suoi capolavori, lui utilizzava la stoffa. Quindi la haute culture francese è fatta risalire proprio a Worth. A Worth che era un uomo ambizioso, orgoglioso e capovolse proprio la figura tradizionale del sarto che prima andava di casa in casa, a prendere le misure, a lavorare, poi a far indossare l'abito. Invece al contrario lui cominciò ad invitare le clienti nella sua maison e a queste giovani donne parigine mostrava figurini, acquarelli e con appunto i modelli degli abiti che poi avrebbe realizzato e organizzava presentazioni proprio viventi con vere e proprie modelle che sfilavano. Ed era questa una vera e propria audacia per il tempo. Quindi per la prima volta una cliente si trovava a scegliere abiti già confezionati perché il sarto Worth sceglieva per lei e perché lui faceva la moda, la creava. I capi erano costosi, pezzi unici creati su misura. Quindi e poi fra l'altro lui aveva anche introdotto l'abito stagionale secondo la stagione, primavera, estate, autunno, inverno e firmava addirittura i suoi abiti. E tra l'altro un guardaroba completo comprendeva molti vestiti, abiti da mattina, da pomeriggio, da sera, per le occasioni speciali come matrimoni e balli, balli in maschera e così via. In questo dipinto di Degas invece viene rappresentata la modista, una modista con lei che creava i cappellini. È datato 1879 e questa vetrina della modista parigina rivela che la stagione rappresentata è probabilmente la primavera, l'estate, proprio perché i cappellini, vediamo, sono di paglia, di colore naturale ed è il materiale che di solito si indossava a partire dalla Pasqua, quindi all'inizio della primavera. Le dame indossavano cappellini di paglia nera all'inizio di aprile e poi verso l'estate questo veniva sostituito da copricapi di colore naturale. Qui vediamo poi come i decodi di cappellini fanno intuire proprio l'arte delle modiste e con lo sfoggio appunto di abbellimenti per rendere unici questi accessori da nastri, fiori, pizzo, eccetera. Vediamo proprio alcuni esemplari di cappellini sopravvessuti che sono di una maestria di una bellezza unica. Questa è un altro celebre dipinto di Tissot. Tissot che ci rappresenta la damoiselle du magasin, cioè la commessa del magazzino, datato 1883. Questa è una boutique in cui vediamo proprio la vetrina rappresentata, che è uno dei luoghi in cui possiamo avere la consapevolezza di chi erano i costumi contemporanei. È il luogo sostanzialmente del pret-à-porter. Queste vetrine immense, luminose e il punto forte di questo ambiente è naturalmente la commessa, molto attenta, molto solare, attenta alla vendita dell'articolo e soprattutto alla presenza anche del suo incontrastato sorriso. È la vendeuse, la damoiselle, è la promessa della felicità per parafrasare Stendhal. Questo dipinto fu realizzato una decina d'anni dopo la grande esposizione impressionista. Questo artista aveva rifiutato di partecipare, a differenza del suo amico Manet. Qui Tissot ci dimostra come poi è uno dei particolari della sua pittura, è l'ossessione legata alla moda del tempo, che determina proprio il suo universo pittorico. Vediamo qui praticamente una sorta di flashback di quello che è un fermo immagine, che sembra quasi un fermo immagine di un film, di quello che sta accadendo nel momento stesso. Noi siamo i protagonisti di questa immagine, siamo il cliente che ha appena, o la cliente che ha appena effettuato un acquisto, acquisto conservato tra le braccia della commessa, questo pacchetto rosa. La commessa ci apre in modo cortese la porta per uscire e poi ci fornirà il nostro acquisto. Fuori dalla vetrina vediamo passeggiare le donne della Parigi del tempo, che si soffermano a guardare la vetrina e soprattutto poi c'è un uomo con il cilindro beige che più che alle merci esposte è interessato alla commessa all'estrema sinistra. Sul tavolo vediamo poi tutti scomposti, accessori legati alla moda e all'abbellimento dei cappellini del tempo, nastri rosa di diverse tonalità, oggetti blu, insomma tutto quel materiale che si vendeva nei negozi del pret-à-porter farigino. Che cosa rendevano unici gli abiti del tempo, al tempo degli impressionisti? Beh innanzitutto gli abiti della metà dell'Ottocento erano considerati una perfetta espressione della moda del secondo impero francese ed erano abiti che erano sorretti da una crinolina ed eccola qui la crinolina. Era una sottostruttura, una sottogonna in acciaio che conobbe uno sviluppo eccezionale in quel tempo e venne realizzata in materiali più svariati, sempre più leggeri. Eccola qui. Il corpetto quindi e la gonna che componevano questi abiti davano vita ad una forma molto arrotondata del corpo femminile e più delle volte erano confezionati separatamente. I corpetti da città erano indossati su un corsetto abbottonato sul davanti, nel corso degli anni sono cambiati moltissimo. Qui vediamo per esempio un abito datato intorno al 1850 che presenta delle baschine e delle maniche molto svasate chiamate a pagoda. A partire dal 1860 le maniche poi diventeranno sempre più strette. E i corpetti eleganti venivano poi sostituiti a quelli che potevano essere utilizzati durante il giorno. Cioè, visto il costo eccessivo delle vesti, la gonna rimaneva la stessa per tutte le occasioni della giornata, veniva sostituita solo la parte del corpetto, a seconda dell'occasione che si doveva presenziare. Durante la giornata, durante il giorno, le passeggiate, il corpetto aveva maniche lunghe. Durante la sera, feste da ballo o per presenziare spettacoli all'opera, il corpetto era scollato con maniche corte. Questi abiti venivano chiamati abito a trasformazione, robe a trasformazione, cioè poteva essere trasformato. Vediamo un abito realizzato dalla Mieson-Vort, vedete che capolavoro. Tuttavia, nel 1866, come ricordate nel dipinto di Camille, di Manet, le donne che dettavano la moda cominciarono a disapprovare e a odiare un pochino le crinoline perché erano percepite come comuni, troppo scomode, troppo ingombranti. Per un certo periodo, molto breve, venne usato l'abito senza crinoline e poi scelsero di utilizzare abiti con degli strascichi e degli abiti corti, imboccati e rimbucati su loro stessi attraverso dei puff. Utilizzarono questo accessorio, a partire dal 1870, che pone l'accento sulla curvatura della vita e sull'ampienza della gonna rovesciata della parte posteriore, all'indietro. Questa sottogonna veniva chiamata tournure. Così, dopo essersi ritrovati immersi da una massa di stoffe ingombrante, la donna della crinolina, quindi, la donna ora è ricoperta da un insieme complesso di volants, come vediamo in questa immagine, tutto drappeggiato intorno alla sua figura. Questa silhouette affusolata raggiunse il suo apice intorno agli anni fra il 1876 e il 1878. Qui alcune immagini di tournure. Questo è un abito da ricevimento di Wurt. Invece, le donne, nella solitudine della loro casa, indossavano abiti completamente diversi e i pittori impressionisti hanno infatti immortalato le donne all'interno delle loro dimore in abiti da mattino oppure dipinti mentre trascorrono del tempo in giardino, con toilette da passeggio, da pomeriggio, o intende a leggere i loro libri. Allora, l'abbigliamento della donna in casa varia naturalmente con il trascorrere delle ore della giornata e degli appuntamenti che lei deve appunto presenziare. Una donna borghese può cambiare di abito anche 15 volte al giorno. Innanzitutto, appena alzata dal letto al mattino, una donna borghese può usare una vestaglia qui ben rappresentata da Manet, nella Femme con il parochè, nella donna con il pappagallo. Questa vestaglia da camera di colore rosa, di raso rosa. Può andare quindi da questa semplice vestaglia, la toilette del primo mattino, o un abito molto leggero. E poi all'abito del mattino subentra naturalmente una toilette pomeridiana, molto più elegante, più elaborata. Di pomeriggio possono essere utilizzate anche delle vesti bianche, di colore bianco, che però non possono essere indossate per passeggiare nella via parigina, che deve, per questa incombenza, diciamo, bisogna essere vestite con abito, con palto, con lo scialle, il cappellino, l'ombrellino e tutti quegli accessori da passeggio che ben abbiamo illustrato precedentemente. Questi abiti bianchi da casa, e qui vediamo Manet che rappresenta l'amica e pittrice Berthe Morissot con addosso questo abito, vengono portati talvolta senza il corsetto. Sono una sorta di abito negligee, con cui gli amici pittori si vestono quando sono in campagna o per leggere tra gli alberi o in giardino, e come dicevo Manet ha rappresentato Berthe Morissot al balcone con indosso questo abito morbido, dalle larghe maniche in mussola di cotone, mentre la figura femminile accanto è la violinista Fanny Claus, e indossa un abito invece molto corto e pratico per passeggiare nelle strade parigine della città. Questa invece è la moglie di Manet che è seduta in una poltrona e porta praticamente la stessa veste di Berthe Morissot. Questo abito negligee, senza corsetto e senza crinolina, molto trasparente, sembra quasi in mussola di cotone, e lascia intravedere appunto le braccia sottostanti, ed è cinto da una cintura nera in vita, un nastro nero. Tutte queste vesti naturalmente sono da indossare in estate, quando la stagione è più calda. Qui ne vediamo un'altra di donna che indossa questa veste da camera, ritratta da Renoir, in questa donna che suona il pianoforte. È una veste bianca adornata da un nastro nero. In inverno naturalmente la veste da camera era in materiale diverso rispetto a quella dell'estate. Era solitamente realizzata in lana con motivi decorativi cashmere, simili a quelli degli scialli, che avevano fatto tra l'altro la fortuna delle manifatture alsaziane nei primi del 1860. erano diventati questi scialli, queste decorazioni molto in voga. Vi sono infatti due retratti di Renoir che immortalano Camille Monet vestita con una veste da camera di questo tipo. In questo caso blu con grandi motivi cashmere sul davanti. Queste vesti da camera si potevano trovare in vendita nei grandi magazzini. Ecco qui, la stessa veste rappresentata in un dipinto differente. Lo scialle di cashmere poi era un accessorio tra i più desiderati delle signore del XIX secolo, un desiderio che spesso era oggetto di satira nei romanzi di Balzac. E qui vediamo appunto il retratto di Monet di Madame Louise Joaquin Godibert e di un abito simile a quello indossato dalla donna ritratta. Anche qui il volto è di tre quarti, si vede appena ed è il ritratto non tanto della signora ma dell'abito e del suo scialle di cashmere. Negli stessi anni vi è anche nella moda una forte influenza dell'abbigliamento giapponese. Questo è dovuto soprattutto grazie alle grandi esposizioni universali che venivano fatte tra Londra e Parigi. E quindi questi abiti a kimono erano apprezzati soprattutto dagli artisti. Le donne usavano il kimono come vesti da camera e a volte erano proprio modelli originali che venivano adattati al gusto sartoriale occidentale. Ne vediamo un esemplare. Questo è il rinsu, che era un tessuto bianco ricamato giapponese che era utilizzato proprio per realizzare i kimoni delle donne. Questo invece è una stoffa utilizzata anch'essa per i kimoni adattati però al gusto occidentale. Ecco un'altra donna francese, la parisienne giapponese, rappresentata con il kimono e con il ventaglio alla giapponese, proprio del gusto orientaleggiante che imperversava negli stessi anni. Ecco un'altra donna francese, la parisienne giapponese, rappresentata con il kimono e con il ventaglio alla giapponese, Per gli abiti del mattino, così come per gli abiti estivi, in quegli anni venivano usate stoffe molto leggere, solitamente in cotone o la giacconetta, che era un tessuto di cotone leggerissimo e molto trasparente, con motivi di solito a righe sottili o con stampe a fiori, a pois o a nastri, o dai colori blu, bianchi o giallo. Questi erano i colori più consueti. Quindi tutta l'eleganza dell'abito, che aveva un taglio molto semplice, era poi corredato da una camicetta vaporosa con un corpetto abbottonato sul davanti e la gonna ricciata. Questi abiti potevano essere acquistati semi-confezionati, cioè impreziositi da volant, pizzi e bordure, ma in pezzi ancora da cucire tra loro, che venivano poi adeguati alla taglia della cliente. Venivano acquistati quindi nei grandi magazzini cuciti a casa. Una sorta di carta modello adattabile. Questi sono abiti per il pomeriggio. Per le stagioni meno clementi, quindi per ricevere anche gli ospiti in caso, per prendere un tè con le amiche, che secondo la Costituzione inglese che stava proprio diffondendosi in quegli anni, si indossava un abito da città, solitamente in seta, ornato con volant, con rouge, con merletti, con elementi vari. A differenza degli abiti del mattino o degli abiti estivi, la confezione di questi abiti da città richiedeva naturalmente un corredo di conoscenze e tecniche che implicava quindi il ricorso di una modista o di un sarto, o al reparto di confezioni dei grandi magazzini parigini. Questo abito nero indossato da Madame Carpentier è stato attribuito a Worth e presenta uno scollo quadrato che è impreziosito da velluti e pizzi di chantilly ed è indossato appunto da questa Madame Carpentier, che è moglie dell'editore Carpentier, ritratta da Renoir. Ed è un esempio di quell'abito da ricevimento scelto con grande cura da una padrona di casa il cui salotto era molto frequentato dalle personalità più conosciute della Parigi del tempo. Tali abiti potevano essere eventualmente anche indossati per recarsi a teatro o ad una cena. Qui vediamo infatti un abito realizzato dalla Maison Roger nel 1877 circa che si avvicina molto a quello rappresentato da Renoir e indossato da Madame Carpentier o Charpentier. E qui la foto di Marguerite con l'abito ritratto da Renoir nel dipinto precedente e una pagina della mode illustré, il celebre giornale di moda in voga in quegli anni. Dunque, parliamo ora di tutti quegli elementi che andavano a definire il corpo femminile di quegli anni, cioè del corsetto e poi delle crinoline. Allora, la figura femminile degli anni 70 dell'Ottocento è modellata fondamentalmente da due accessori importantissimi per la bellezza femminile. Il corsetto, che stringe la vita e valorizza quindi il seno in alzandolo e la tournure, che sostiene i risvolti delle polonesi di quelle gonne molto ricche di tessuto sulle anche. Sarà poi negli anni successivi una celebre e rivoluzionaria Coco Chanel che libererà il corpo della donna dal corsetto, proprio all'inizio del secolo e nei primi anni del Novecento. Quindi, per rimediare i segni dolorosi delle stecche del corsetto, la donna sotto di esso indossa prima una camicetta senza maniche, sulla quale aggancia poi sul davanti la stecca del corsetto e poi verranno tirati tutti i cordoni che si trovano nella parte posteriore, cioè posti sulla schiena, che vengono annodati poi i nodi di questa lacciatura sul davanti e cucito nella parte inferiore del corsetto per i vettari, che i cordoni e le sottogonne risaigliano. Eccoli qui i corsetti della metà dell'Ottocento, quindi abbottonatura sul davanti e chiusura con i lacci sul dietro. Innanzitutto è una buona regola per una donna della buona società, come scriveva appunto il manuale del bonton del tempo, non indossare mai l'ingerie colorata, ad eccezione delle calze che potevano essere di diverse sfumature cromatiche, dall'azzurro al rosa al giallo, di colori pastello. Tutto ciò che tocca il corpo dalla gonna al corsetto deve essere rigorosamente bianco ed immacolato, perché questo colore richiama la purezza e solo le donne che commerciano con il loro corpo osano mettere la loro carne in evidenza indossando e dividenziandola con i colori. Quindi, con il suo corsetto blu, Nanà, rappresentata da Manet, appartiene dunque a quelle ragazze non della classe per bene, ma quelle ragazze definite leggere, quelle che si lasciano ammirare anche in disabiliere. Quando venne esposto il dipinto di Manet, diede vita proprio ad uno scandalo così forte che venne chiamata addirittura la polizia per sedare i disordini che aveva causato questo dipinto. Ritrae una giovane modella di nome Henriette Euser che era chiamata Nanà, che in realtà era un'attrice della Parigi ottocentesca e che, anche se questo quadro ai nostri occhi, appare veramente castissimo, cioè non ha niente di sconvolgente e di provocante, in realtà in quegli anni era decisamente diversa la situazione, aveva causato un grande scandalo. Nanà era una ballerina estremamente fascinosa, molto conosciuta, amante della buona società parigina nel periodo del Secondo Impero ed è protagonista non solo di uno dei più famosi romanzi di Zola, da cui appunto Manet prese lo spunto per il suo dipinto, in cui si narrava la vita notturna della Parigi, della mondanità, le prostitute d'alto bordo e le ballerine dell'Hoffenbach, del Moulin Rouge, ecco. Qui accanto vediamo un corsetto di saten, di seta azzurro simile a quello indossato nel dipinto di Manet. Come ci si vestiva per le occasioni mondane o per le occasioni serali? Innanzitutto per la sera esisteva tutta una gamma di abiti a seconda delle circostanze, soprattutto dell'età della donna che doveva indossare l'abito. Un abito da cena importante è diverso da un abito da ballo o da una toalette per una prima all'Opera di Parigi e si differenziano soprattutto da quelle anche indossate per le rappresentazioni teatrali del tardo pomeriggio. Quindi c'era proprio tutto un bon ton da seguire, dei codici vestimentari molto rigidi. E una donna appunto che poteva assistere ad una pièce teatrale nel tardo pomeriggio poteva essere vestita con un completo da città e anche indossare un cappello. Questo non poteva avvenire durante una rappresentazione serale. Per gli abiti delle cene e del teatro di solito questi erano poco scollati e non venivano scoperte le spalle che restano nascoste sotto le maniche che di solito sono a tre quarti e decorate da pizzi realizzati a mano oppure fatti dalle industrie. Qui vediamo appunto un abito da sera. Qui uno degli altri abiti a trasformazione abito di trasformazione di cui vi ho parlato. Secondo il fatto che gli abiti costavano moltissimo a quel tempo ed erano veramente molto molto impegnativi nel budget familiare veniva mantenuta la gonna e sostituito il corpetto. Qui vediamo un corpetto con le maniche corte e molto scollato che veniva utilizzato per le situazioni serali. Qui un corpetto invece con le maniche lunghe lo stesso abito mantenendo la stessa gonna poteva essere utilizzato in una situazione pomeridiana. e qui vediamo appunto una soiree in un dipinto di Béreau che ci rappresenta una festa da ballo. A partire dagli anni intorno al 1867-68 divenne importante rintenere elegante che le gonne si trascinassero per terra quindi che ci fosse un lungo strascico nell'abito e venne in voga la linea princesse che apparve nel 1875 fu così chiamata in onore della fascinante principessa Alessandra del Galles celebre per la sua non solo eleganza ma anche magrezza. È una veste sostanzialmente intera il cui punto vita non è segnato da cuciture ma da pants verticali che fanno aderire l'abito e il corpo mettendo in risalto il busto e i fianchi. Il termine abito princesse è utilizzato ancora oggi nell'abbigliamento moderno. Per i balli e per le serate e all'opera i chiabiti presentano quindi ampie scollature e lasciano le spalle nude. Eccole qui un esempio in un dipinto di Eva González e le acconciature sono molto complesse sono ornate da gioielli, da fiori, fiori vivi, fiori reali. Si utilizzano quindi gli stessi accessori anche per le rappresentazioni pomeridiane guanti e ventaglio. Eccola qui. Questi sono tutti dipinti che rappresentano dame che presiedono delle rappresentazioni all'opera Garnier dipinti da Renoir o da Marie Cassin Questa è la donna con il collier di perle in una loggia dell'opera e hanno questi sia Renoir che Marie Cassin hanno dipinto molte tele intorno a questo soggetto dell'opera e questa femme vecchie collier questa donna con il collier è la sorella della pittrice indossa un abito rosa con un fiore tra i capelli e uno nella scollatura il collier poi di perle è importantissimo e lei sembra esibirlo con grande fierezza con grande sicurezza e tra le mani poi vediamo un ventaglio e i guanti questi abiti sono obbligatoriamente in seta e di tantissime varietà appunto che va dal tulle alla tartalana fino alle sete più pesanti operate e al velluto di seta poi vengono applicati naturalmente in questi abiti tutti quegli elementi decorativi che sono nastri le gale di pizzo le ruche i volant tutti presenti nello stesso abito per conferire maestosità e stile i colori poi sono molto vari si possono notare alcune preferenze il colore verde crudo il blu duro il viola profondo il turchese il blu di prussia i colori malva il prugna il colore rosa come appare in questo dipinto di Renoir il blu e il bianco erano riservati alle giovani così come le stoffe leggere le tartalane guarnite di dedicati fiori infatti le decorazioni dei fiori sono destinate solamente alle giovinette ed ecco qui Verthe in un modello molto in voga in quegli anni poi l'amore per il colore nero che abbiamo visto negli abiti da città si ritrova anche nelle vesti da sera proprio perché è un colore estremamente elegante e conferisce quindi eleganza alla figura femminile alcune donne invece che per originalità affermano una scelta contraria al posto di aggiungere decorazioni all'abito invece indossano abiti del tutto spogli di ornamenti ancora più provocanti come in questa in questo ritratto di John Singer Sargent nel 1883 che indossa una veste di velluto nero della Maison Félix molto scollata e cui unico decoro sono le spalline sottili tempestate da diamanti un abito che ancora oggi appare moderno tra i divertimenti della borghesia del tempo l'ambiente prediletto è quello circense e la gente andava al circo proprio per divertirsi ed era uno dei divertimenti più popolari nella seconda metà del XIX secolo così come il teatro così come l'opera e qui notiamo in questo dipinto di Tissot tutta una varia variazione di abiti di colori e di oggetti alla moda in cui sembra proprio una passerella un'illustrazione di moda assolutamente le donne vestite con tutti gli accessori di cui abbiamo elencato cappellino guanti ombrellino parasole ventaglio alla mano e così via parliamo adesso molto velocemente di quella che invece è la moda maschile del tempo le scelte del vestiero maschile naturalmente sono molto più limitate durante questo arco di tempo e l'abbigliamento sembra quasi molto moderno il colore rispetto al 1700 scompare quasi completamente a vantaggio dei colori scuri o a tinta unita il panno ha preso poi il posto di tessuti quali il velluto della seta o del broccato peraltro si prende anche in uso l'abitudine di utilizzare lo stesso abito per situazioni diverse anche nell'ambito maschile quindi l'uomo del mondo parigino una volta tolta la sua vestaglia da camera vive il ritmo quotidiano con due tipi di abbigliamento successivi una la tenuta diurna e poi il frac serale sostanzialmente qui abbiamo il ritratto di Fantin della Tour di Edouard Manet e vediamo come appunto questo dipinto riassuma tutti gli elementi della moda maschile del tempo la parte superiore è naturalmente stretta in un gilet in una rendingota ecco dal colore molto scuro la giacca è corta e e ha poi il sottostante una camicia dal colletto molto rigida una cravatta di colore blu quindi è un ritratto molto impeccabile questo di Edouard Manet con il suo guanto di pelle il suo bastone da passeggio l'immancabile cilindro quindi l'uomo borghese per eccellenza invece abbiamo appunto il ritratto di un palto del cappotto maschile molto simile al taglio contemporaneo e qui poi un dipinto sempre di Tissot che è il circolo della Rue Royale in cui vediamo proprio lo sfoggio della moda del tempo dai pantaloni chiari al gilet ai soprabiti ai cilindri di vari colori vediamo proprio come appunto la moda maschile fosse molto più semplice rispetto a quella invece dell'universo femminile allora la gamma dei tessuti innanzitutto per i pantaloni che hanno sempre un taglio molto ampio e molto molto vasta e naturalmente possiamo trovare fantasia a righe a quadri o a piedi a piedi e pull o a piedi e coq ai piedi questi fanciulli indossano scarponcini con un tacco la cui altezza può variare e su cui cade poi scomparendo la piega sempre ben marcata dei pantaloni il capo come dicevo è coperto da un cappello a cilindro immancabile il bastone l'ombrello e i guanti che completano proprio la tenuta dell'uomo che si appresta ad uscire nelle vie cittadine l'eleganza dell'uomo viene innanzitutto giudicata in base e soprattutto all'impeccabilità dei polsini del colletto della sua camicia che devono essere rigorosamente rigidi questo circolo qui appunto ti so ci rifornisce testimonianza è come dire il circolo degli artisti degli uomini più in voga e più conosciuti dell'ambiente parigino del tempo e sono rappresentati con abiti accessori proprio con raffinatezza con un dettaglio che rivelano proprio i gusti dell'aristocrazia degli anni 60 dell'800 ed è una sorta di fotografia di flash di polaroid del tempo e dell'epoca qui vediamo in dettaglio alcuni particolari dello stesso dipinto quindi il pantalone chiaro con la piega e lo stivaletto coperto dal pantalone molto ampio più i gilet di vari colori mancabile poi la rigidità del colletto della camicia del papillon o del gravattino che va ad incorniciare il colletto del bastone da passeggio e insomma si possono notare tutta una serie di particolari molto ben definiti qui abbiamo un ritratto di Renoir svolto e dipinto da Basile intorno al 1867 ed è una posa veramente molto anticonvezionale di questo giovane artista che qui sembra avere 26 anni è seduto su una sedia con le ginocchia tenute tra le braccia e agli abiti di un giovane uomo appunto indossa un palto nero pantaloni grigi senza reverse quindi molto dritti che cadenti sugli stivaletti neri la cravatta è mancabile di colore blu e nella camicia si vedono soltanto i polsini e il colletto inamidato e invece in questo uomo con l'ombrello ritratto da Monet viene offerto un esempio di quella che è la demitualette cioè un ritratto di una mezza stagione questo signore che non è altro che Victor Jacques Mar un uomo molto famoso al tempo a Parigi e presenta un abbigliamento con una camicia di percal rigata di cotone quindi ed è ritratto in abbigliamento da campagna la cravatta è anodata ma con nonchalance cioè con un nodo molto semplice il cappello portato all'indietro è una paglietta la veste poi e il gilet cioè la giacca e il gilet sono fatti dello stesso tessuto e annunciano quella che è la nascita del costume e dell'abbigliamento moderno e del completo maschile in questo dipinto di Manet vediamo ancora un abbigliamento da campagna per quanto riguarda l'abbigliamento maschile questa giacca di colore chiaro e questo nodo della cravatta appunto abbastanza inusuale è abbastanza sciolto per quanto poi riguarda quello che riguardano i divertimenti all'aperto i parigini amavano fare dei grandi picnic nei grandi parchi della città o fuori dalla città gli impressionisti proprio per per indole hanno creato questa evocazione degli svaghi all'aria aperta ed è strettamente legata anche al mondo della moda che si tratti quindi di parchi della capitale dei giardini dei soborghi o della foresta di Fontainebleau questi spazi si prestano proprio allo sfoggio degli abiti eleganti e come dimostrano soprattutto tra gli anni 1865 e 1867 due grandi manifesti della nuova pittura impressionista che hanno esaltato proprio la bellezza fuggevole di una bella giornata d'estate la colazione sull'erba e donna in giardino di Monet e l'artista si è proprio cimentato in una tela di grande formato che abitualmente erano riservate le composizioni storiche la colazione sull'erba poi dipinta nella foresta di Fontainebleau e anche la donna nel giardino dipinta invece nella bandio parigina qui evidenzia la sfida di voler integrare le figure di grandezza naturale nel paesaggio e sceglie proprio il pittore di rappresentare i suoi contemporanei vestiti all'ultima moda la colazione sull'erba appare come una rappresentazione di una scena osservata in plein air un momento di rilassamento un picnic dei parigini vestiti all'ultima moda quindi le pose e gli atteggiamenti di queste donne e di questi uomini rappresentati hanno una doppia valenza danno ritmo e dinamismo alla composizione ma anche sono scelti in funzione della capacità di moltiplicare i punti di vista sugli abiti come ben si può vedere i visi appaiono indistinti non possono essere assimilati a veri e propri ritratti Camille la compagna del pittore che viene spesso rappresentata da lui qui ha posato per tre delle figure sulla sinistra Monet poi rende con grande maestria il bianco degli abiti li colloca proprio saldamente all'interno della struttura della composizione ed è smorzato questo ha gli abiti femminini dal bianco e dal verde degli alberi dei marroni delle cordecce e poi degli alberi questo dipinto fu terminato in bottega perché fu rifiutato dal salon ufficiale del 1867 e si dicevano allora i critici del tempo che troppi giovani sono intenzionati a proseguire in questa nuova arte e in questa nuova direzione ormai è giunto il tempo di difendere e salvaguardare l'arte non piacevano i dipinti degli impressionisti e ai critici moderni e oggi invece ben sappiamo quale destino è stato riservato a questi grandi maestri altre immagini di Monet che rappresentano le passeggiate tra i parchi in cui vediamo appunto abiti molto fluidi e leggeri da indossare durante le giornate estive qui alcuni esempi basta infatti era la gamma dei modelli utilizzati per passeggiare nel periodo sia del secondo impero che poi anche verso la fine dell'ottocento sono sostanzialmente questi abiti caratterizzati da un corpetto molto aderente con la vita alta con una camicia con baschine corte e un capottino a sacco detto palto sul davanti poi vediamo la gonna che era sostenuta dalla crinolina e più avanti invece vediamo poi degli strascichi un altro dipinto di Monet in cui vediamo lo sfoggio di bellissimi abiti qui un abito rigato qua e qui con un ricamo sul davanti realizzato in musola di cotone bianco e qui rigato proprio per le giornate estive invece di Renoir un bellissimo ritratto di abito bianco leggero e un bellissimo esemplare di parasole come dicevamo all'inizio con il manico tutto lavorato in avorio realizzato con ricami e tulle e pizzi pregiati questo ritratto di Renoir ritrae la sua compagna Lise Théo che viene presentato al pubblico contemporaneamente all'FM Eau Jardin di Monet la donna qui sembra emergere da un bosco indossa una veste in musola bianca e il cui materiale era vivamente consigliato dalle riviste di moda per per gli abiti estivi insieme al piqué di cotone e alla tartalana che era un cotone leggerissimo tinto o stampato e inamidato e lascia in questo caso questo abito intravedere sotto le maniche bianche il del coltello a pelle candida che risplende sotto i raggi del sole il cappellino appena appena piccolo di paglia appoggiato sul capo e il il parasole come dicevamo Zola applaude questo dipinto per la ricercatezza nella modernità fu molto apprezzato un altro abito da passeggiata estivo e poi arriviamo a questo dipinto di Basile la riunione di famiglia datato 1867 qui vediamo proprio la preoccupazione dell'artista che è quella di integrare i suoi personaggi e i suoi familiari nel paesaggio in plein air sostanzialmente di rendere un omaggio affettuoso alla sua famiglia che era molto molto unita lui era un figlio di ricchi borghesi protestanti ed ogni estate lasciava l'atelier padigino per trasferirsi a Montpellier dove la famiglia aveva l'abitudine di passare la stagione calda come abbiamo detto Basile era molto sensibile alla moda del tempo e qui vediamo le due giovani cugine Teresa e Camille che indossano abiti di mussola di cotone bianca a pua blu che lasciano intravedere la trasparenza delle braccia eccole qui Poline Teloni invece indossa un completo da passeggio eccola qui in mussola bianca Suzanne una veste a righe e la capofamiglia invece una veste in taffta di seta blu e uno scialle di pizzo nero proprio perché era la donna più anziana quindi non pateva farsi suggestionare della moda dei giovani gli uomini portano tutti i pantaloni chiari gilet bianco o nero i colli dalle camicie dritti e inamidati le cravate i visitatori si possono individuare perché hanno il cappello il cappello indosso e i cappellini di paglia ornati di fiori invece nelle signore eccoli qui quindi sono visitatori altro dipinto di Tissot in cui vediamo proprio osserviamo un altro ritratto di famiglia e della moda del tempo e arriviamo poi la donna con l'ombrello di Monet posteriore di quasi due decenni rispetto alle opere precedenti e qui ormai l'abito si fonde bianco di mussola bianca si fonde proprio con le ombre del cielo e le nuvole appunto diventa tutto colore e si fonde la descrizione dell'abito con quella del paesaggio e sembra inglobare la donna stessa vediamo già che le siluette degli abiti stanno cambiando mentre prima nelle colazioni all'aperto nei picnic le forme degli abiti sono molto ampie arrottondate e qui diventano molto più sottigliate più aderenti alla figura arriviamo poi a questo ritratto di Renoir nell'altalena che ritrae una giovane abitante del quartiere parigino di Montmartre che indossa anch'essa un abito di mussola bianca ravvivata però da fiocchi e nastri tutti azzurri cuciti sul davanti anche qui viene rappresentato con una serie di gioco di luci per concludere gli abiti che si indossavano alla spiaggia durante le passeggiate al mare perché grazie alla ferrovia il mare diventa una meta prediletta dai borghesi francesi e si passano i weekend e molte giornate al mare qui Tissot o Bordemère o in Jullier rappresenta proprio un soggetto questa donna che indossa una robe detta la princesse quella appunto lanciata dalla principessa Alessandra dove il taglio mette in risalto il corpo rigorosamente bianco il colore proprio perché l'estate si prediligeva questo colore per concludere questo viaggio nel mondo dell'arte e della moda lascio tre citazioni che sono sicuramente affini a quello che abbiamo appena raccontato di Balzac e di Stéphane Mallarmé cioè l'abbigliamento è al tempo stesso una scienza un'arte un'abitudine un sentimento il principio della vita elegante è un alto pensiero di ordine di armonia destinato a trasmettere poesia le cose e Stéphane Mallarmé la moda la dea dell'apparenza ringrazio per l'attenzione e auguro un buon proseguimento grazie a tutti